Ha ragione il Cesare 1840, ha ragione Cesare, ha ragione Cesare a dire per come sono andati gli ultimi derby è meglio se non si presentano, però Cesare non sai sta cosa qua, che questi qui sai cosa pensano? Che noi siamo calati, che siamo calati, sì loro pensano che è il momento, è il momento, capito? Che l'Inter ora no, no, no c'è più, eh, questo stanno, io li conosco, io sono telepatico, io so cosa pensa un pirla, perché scoprire cosa pensa un pirla è facile, capito? Loro pensano dai 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 è il momento buono, ora sono calati, hai capito cosa pensano? Comunque ha ragione Cesare 1850, dai, non presentatevi proprio, cosa venite a fare? 3 a 0 a tavolino e basta, è inutile che dovete venire, fare un'altra figura di merda, eh, bravo Cesare, bravo, bravo, bravo. Grazie a tutti